è possibile risolvere così l'errore riguardo al 0xC000342 riguarda l'applicazione che non si è avviata correttamente su Windows quindi in questo caso ovviamente l'applicazione può sempre avviarla come amministratore e certe volte funziona però se non dovesse funzionare come amministratore possiamo direttamente usare il prompt dei comandi del sistema in descrizione ti ho lasciato vari comandi da inserire sul cmd quindi andiamo sulla barra della ricerca e scriviamo cmd esegui come amministratore il prompt dei comandi e facciamo sì una volta fatto andiamo a copiare il primo comando e a inserirlo sul cmd e facciamo ctrl v e facciamo invio una volta eseguito il primo comando andiamo a mettere il secondo fai ctrl v e metti pure il secondo comando chiudiamo qua e andiamo direttamente su regidit copi l'altro comando che ti ho inserito in descrizione fai copia e lo inserisci qui in colla eccolo qua i parametri che ci servono sono up init trattino basso dlls questo qua e lo add up init quindi vai cliccare su load up init dati valore 0 metti up init trattino basso dlls dati valore metti 0 e fai ok una volta fatto chiudi tutto e riavvia il tuo sistema se hai altri problemi commenta sotto al video e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao